Ciao a tutti e benvenuti su Fappi Brain, io sono Yuri e oggi sono qui per presentarvi un gioco in alteprima che al momento è su Kickstarter, parliamo di Race for the Title un deck building per 2-4 giocatori dove andremo a costruire la migliore squadra o cercheremo di costruire la migliore squadra per competere con gli altri giocatori e essere i primi a raggiungere i 70 punti per vincere il campionato ma andiamo a vedere una veloce panoramica delle regole e le mie impressioni Allora, a inizio del gioco ogni giocatore andrà a scegliere una delle 4 squadre presenti prenderà il dado del colore, la pedina del colore che andrà sullo 0 in base del tracciato ricordate che questo è un prototipo, ok? e quindi prende la carta, il segnalino, il dado e poi riceverà praticamente 4 carte 4 carte program sale e 6 giocatori giovani ora i giocatori giovani ne avremo 2 con 1 difesa e 0 di attacco 2 con 1 attacco e 1 difesa e 2 con 0 difesa e 1 di attacco una volta che ognuno ha preparato il proprio mazzo andremo a prendere le altre carte che sono nel mazzo e le andremo a dividere quelle che costano da 2 a 4 quelle che costano da 5 a 7 e quelle che costano da 8 in su una volta fatto questo andiamo a mischiare i vari mazzi e andiamo a creare un display di 5 carte per ciascuno dei 3 mazzi in questo modo ok e voilà e siamo pronti a partire adesso si sceglie il primo giocatore e tutti quanti i giocatori adesso tolgo questo un attimo di mezzo per farvi vedere come funziona tutti i giocatori praticamente iniziano tutti i giocatori iniziano col proprio mazzo con la carta qui e mischiano il proprio mazzo e rivelano le prime 5 carte ora la pila delle carte di pesca viene chiamata panchina queste 5 carte qui vengono chiamate la nostra formazione la pila degli scarti viene chiamata lo spogliatoio nel tuo turno praticamente puoi fare opzionalmente puoi utilizzare carte azione ve ne farò vedere alcune più avanti puoi decidere di giocare una partita contro un altro giocatore e dopo di ciò puoi spendere i soldi per comprare nuove carte come funziona la partita contro un altro giocatore facciamo finta che io adesso prendo questo qui facciamo finta questo perché tutti i giocatori iniziano con 5 carte scoperte ok è così quindi è il mio turno decido di giocare una partita il mio attacco è indicato dai numeri che si trovano nelle freccette verdi in questo caso io ho 0 attacco e vado ad affrontare la difesa avversaria che è quella nelle freccette rosse in questo caso il rosso ha 2 di difesa io ho 0 di attacco potrei decidere di attaccare come no facciamo finta che adesso decido di attaccare tutti e due i giocatori tirano i propri dadi e adesso vediamo che io ho fatto 6 più 0 6 il difensore ha fatto 5 più 2 7 il difensore ha vinto guadagna 3 punti che andrà a segnare sul sul tabellone questo qua ok se si pareggia ovviamente si prende un punto ciascuno se vincevo io prendevo 3 punti io ma perché dovrei giocare se rischio di perdere? bella domanda perché il discorso è che durante il corso del gioco potrei acquistare uno stadio allora senza stadio il mio introito di partita è 1 quindi in questo caso io prenderei 1, 2, 3 più 1 perché ho giocato la partita in casa 4 e avrei un ulteriore bonus se il giocatore che ho affrontato era quello primo in classifica ovviamente adesso per prendere un punto una moneta bonus magari non fa tanto tanto senso però se mettiamo il caso che io ci avessi avuto questo stadio qui io in questo questo momento avendo giocato anche se ho perso avrei guadagnato 1, 2, 3 più 4 7 e se era il primo giocatore avrei guadagnato 8 monete da spendere quindi diciamo che durante la partita a volte anche se tu sai magari che non c'hai queste grosse chance di vittoria puoi comunque giocare per avere un introito maggiore per poi comprare carte e potenziarti veniamo al discorso delle carte azione le carte azione sono tipo questa ve ne faccio vedere alcune abbiamo carte azioni tipo questa abbiamo carte azioni basiche tipo questa cartellino giallo queste qui allora queste sono carte azioni che noi dobbiamo azionare prima di prima di giocare la partita cartellino rosso praticamente mi permette di eliminare un giocatore in una formazione avversaria e farglielo mettere nella pila degli scarti oppure posso eliminare una carta dalla mia formazione o dalla mia pila degli scarti il var ti permette di togliere tre punti a un'altra squadra scrapit semplicemente ti permette di eliminare una carta dalla tua formazione o dalla pila degli scarti oppure prendere una moneta il cartellino giallo è simile al rosso però invece di eliminarlo completamente gli fa saltare la prossima partita che gioca non sei costretto a giocare contro quel giocatore a cui applichi il cartellino giallo rosso o anche questa ha la possibilità di farti eliminare le carte dalla pila degli scarti in giro invece ti permette di far saltare la prossima partita a un giocatore che costa 5 o meno ogni volta che compriamo una carta questa va ovviamente nella pila degli scarti una volta che io aziono le carte gioco la partita spendo i soldi le carte acquistate per esempio se compro uno stadio non lo metto subito qui va nella pila degli scarti per finire il mio turno scarto tutto e pesco 9-5 in modo che posso dare la possibilità agli altri giocatori di affrontarmi ok? e questo è quanto il gioco continua così fino a che uno dei giocatori non arriva a 70 punti con l'unica variante no variante con l'unica aggiunta che ogni volta che il primo giocatore arriva a 10 20 30 40 50 o 60 punti deve pescare una una carta incidente solo il primo che raggiunge quella cifra i successivi che arrivano a quella cifra non devono queste carte incidenti diciamo che la maggior parte sono degli effetti negativi che potrebbero dare la possibilità agli altri di cercare di raggiungerlo per esempio questo per i prossimi tre turni mi riduce i soldi di due questo mi dice che praticamente il mio campo non era ho schierato un giocatore che non doveva giocare e quindi mi hanno tolto tre punti e così via però c'è anche a volte tipo queste carte sponsor che praticamente sono degli sponsor dello stadio che tu le metti vicino allo stadio se ce l'hai o comunque le metti nella stessa zona e ti permettono di incrementare gli introidi quando giochi una partita in casa altre carte di cui bisogna tenere conto sono le carte formazione per esempio quando acquistiamo una formazione tipo questa o tipo questa va sempre nella piratini scarti quando la ripesco la posso mettere davanti a me e le formazioni praticamente rimangono lì per tutta la partita a meno che non compro un'altra formazione e poi la ricambio e praticamente mi danno quel bonus questa mi da fisso tre in attacco mentre questa mi da fisso tre in difesa ovviamente poi ci sono anche delle formazioni più equilibrate tipo questa che mi da una difesa due attacco o il 433 che mi da due difese due attacco e così via l'unica l'ultima cosa da notare è che quando compriamo un giocatore se compriamo un giocatore che ha il simbolo della nostra squadra questo riceverà un più uno a tutte le statistiche quindi in questo caso Rusu siccome è della Dynamo Manager quando viene schierato invece di avere uno difesa e sei di attacco avrà due difesa e sette di attacco per quanto riguarda le regole sono diciamo quasi finalizzate comprendono anche una variante in solo che vedremo in un altro video e adesso passiamo alle mie impressioni allora eccoci alle mie impressioni su questo gioco allora devo dire che il gioco mi ha sorpreso positivamente nel senso che dopo aver letto le regole avevo alcuni dubbi sulla funzionalità del gioco come ad esempio il fatto che magari qualcuno che potesse prendere il largo subito sarebbe stato irraggiungibile cosa che invece non si è verificata cioè nel senso comunque c'è la possibilità di recuperare punti e mi preoccupava anche il fatto che si poteva giocare solo contro gli altri giocatori e che non ci fossero delle squadre tipo delle carte squadra a random che si potevano affrontare nel caso in cui non avessi dovuto affrontare gli altri giocatori invece questa cosa non mi ha disturbato anzi il gioco ha molta interazione appunto grazie al fatto che comunque controlleremo costantemente quanto ci attacco io quanto ci ha di difesa lui o quanto ci ha di difesa quell'altro e così e quindi c'è sempre questa parte di interazione ci sono molte carte che permettono di appunto il cartellino giallo il cartellino rosso l'infortunio che permettono di andare a manipolare tra virgolette le formazioni avversarie che possa essere solo per la partita successiva nel caso del cartellino giallo o dell'infortunio o di farglielo scartare proprio dalla formazione e per quanto riguarda il cartellino rosso in alcuni casi ho trovato che sono molto utili per cercare di appunto avere quel vantaggio per avere più possibilità di vincere considerando che comunque il dado quando c'è poca differenza diventa un po' la fortuna nel senso che come in questo caso lui perché ha fatto 5 ha vinto ma se avesse fatto un 2 avrei vinto io anche se c'avevo 0 attacco il gioco dura all'incirca un'oretta e mezza forse un po' troppo lungo per il tipo di gioco magari avrei accorciato forse invece che 70 punti 60 però è anche vero che la lunghezza del gioco permette di attuare strategie differenti per esempio all'inizio gioco tipo 1 si potrebbe concentrare sul comprare monete in modo da poter comprare i giocatori più forti formazioni più forti stati stati più forti le carte azione più forti tutto quanto senza concentrarsi troppo sui giocatori all'inizio oppure qualcuno si potrebbe decidere di comprare subito qualche giocatore che costa poco per prendere il vantaggio all'inizio una cosa che ho notato che risulta molto importante è quella di appunto riuscire a raffinare il proprio mazzo io mi sono ritrovato in una partita che alla fine praticamente non ho più carte iniziali e quello mi ha voluto di molto e quelle sono carte che secondo me sono importanti da comprare all'inizio in modo da incominciare subito questo lavoro di compro la carta da due così elimino quella da uno compro un giocatore e così mi elimino un altro giocatore e così via in modo che piano piano faccio crescere il valore della mia squadra in modo da avere più certezze per quanto riguarda la formazione che mi verrà schierata ovviamente se compro troppe carte azione troppe carte monete c'è il rischio che sto senza giocatori e quindi sto alla mercè degli altri al contrario se compro solo giocatori e elimino solo carte monete arriverà a un punto che non mi ritrovo più a poter comprare perché comunque lo stadio che ti dà più soldi non mi sembra che sia sei monete se giochi contro il primo in classifica diventa sette quindi significa che le carte più costose senza un'aggiunta di qualche di qualche carta soldo fatta di qualche carta soldo per bene tipo che ne so una di queste che ti dà sei e comprare carte da dieci undici e dodici diventa quasi impossibile per quanto riguarda i lati negativi allora c'è da dire che a volte si possono creare delle situazioni soprattutto nella partita avanzata in cui non c'è bisogno neanche di tirare dati cioè io magari ho quindici da stacco tu hai sette di difesa cioè anche se tu fai un 6 io faccio uno comunque ha vinto in automatico questa è una cosa che potrebbe disturbare un po' però ho notato che comunque è una cosa ciclica che magari stavolta l'ho fatto ho vinto io contro di te così magari la volta dopo vinci tu contro di me in questo modo soprattutto quando ancora siamo all'incirca metà partita quindi ancora abbiamo magari dei giocatori deboli che ancora non siamo riusciti a eliminare e cose varie è importante che più o meno tutti i giocatori riescano a costruire una squadra bilanciata tra tutti perché se no c'è il rischio che se uno dei giocatori gioca male prende e diventa la merced di tutti e quindi si ritrova si ritrova che tutti giocano contro di lui perché vince facile sotto questo punto di vista c'è il rischio a seconda dei giocatori che possano fare king making a me mi è capitato che per scherzo stavamo lì stavamo facendo una partita a tre io ho dominato tutta la partita alla fine uno dei giocatori mi era riuscito a raggiungere un po' perché avevo perso quattro punti grazie alle carte incidenti un po' perché l'altra persona col varma ha fatto perdere altri tre punti e un paio di pescate di squadra fatte male erano variati a pari punti e praticamente il terzo giocatore anche se sapeva andrà a perdere ha giocato contro quell'altro l'ha fatto vince è successo in modo scherzoso tra di noi perché l'abbiamo presa a ride però se potrebbe essere qualcuno che magari queste cose qui potrebbero dar fastidio sì c'è la possibilità di decidere chi vince perché tu non sei obbligato ad attaccare non sei obbligato a giocare non sei obbligato a giocare e quindi se tu vai a giocare se avendo te perde solo per farlo vince stai praticamente aiutandolo a vince però come detto prima in alcune situazioni puoi decidere di giocare anche se hai che perdi per il discorso delle monete questo ovviamente non succede verso fine partita succede più a metà partita diciamo verso fine partita diciamo se incomincia a stare un pochino più attenti per quanto riguarda il discorso a chi dà i punti me la rischio non me la rischio e tutto quanto tra le carte più costose ce ne sono alcune interessanti tipo questa che ti permette di pescare una carta in più c'è questa qui del fuorigioco che praticamente quando se ti attaccano gli elevi 4 al valore di dado che però non può andare sotto 0 c'è questa qui free transfer che non so sicuro se mi piace o no perché ti permette di rubare un giocatore da una formazione avversaria in una partita che abbiamo fatto uno dei giocatori praticamente questa è l'unica carta che ha comprato costosa e lui è andato avanti così non c'era carte monete non c'era niente e ha fatto altro che liberarsi di tutte le carte base e quindi questa gli girava abbastanza frequentemente non faceva altro che rubacci i giocatori a noi diciamo che si la cosa può infastidire un pochino però da metà partita in poi diciamo compra giocatori non diventa un grosso problema soprattutto se hai costruito bene il mazzo se hai comprato un bello stadio e cose così quindi alla fine si te lo frega però alla fine torno dopo riesci a ricomprare a ricomprarne uno nuovo diciamo che in definitiva il gioco mi ha soddisfatto mi ha divertito c'ha una modalità in solitario che permette di giocare contro una squadra composta praticamente da tutti i giocatori da tutti i giocatori giovani quelli che sono i mazzi base e da tutti i giocatori di una squadra si mischiano e poi si gioca contro di lui non l'ho provata ancora però sembra interessante per il resto se avete delle domande chiarimenti lasciate i commenti qui sotto al video se volete vedere come sarà il gioco nella sua versione definitiva cliccate sul link del kickstarter e alla prossima ciao a tutti grazie